ok benvenuti ragazzi io sono gizius e oggi siamo su airstone dopo tantissimo tempo cioè ok ho fatto una live neanche tanto tempo fa su airstone ma effettivamente se guardiamo al canale è passato tantissimo tempo dall'ultima volta che ho fatto una partita di airstone mi pare che l'ultimo video l'abbia fatto con diso se non sbaglio comunque oggi siamo qui per iniziare non una serie ma degli episodi che usciranno quando ne avrò voglia sui mazzi più usati allora cosa è cambiato da karazhan un fracco di cose è stato inserito una nuova espansione che si chiama i bassi fondi di meccania che cosa ha portato questa espansione ve lo faccio vedere subito praticamente sono state introdotte delle carte che vanno bene non per una classe ma per più classi infatti le classi sono state divisi in tre clan se così possiamo chiamarli con delle carte che vanno che possono essere usate da tutti i membri di questi di questo clan per esempio il mago fa parte della cabala insieme al mago fanno parte sacerdote stregone quindi sono nata una serie di carte che vanno bene sia per mago sacerdote stregone ok il concetto è questo comunque il mazzo che voglio portarvi oggi è per l'appunto un mago e che ho soprannominato cabalas renomage perché allora innanzitutto non è per niente semplice qua possiamo vedere la lista se avete bisogno mettete in pausa che cosa possiamo dire su questa lista allora innanzitutto stiamo parlando di un mazzo reno per chi non conoscesse nazire non vuol dire che abbiamo una sola copia per carta di ogni carta all'interno del mazzo ok quindi non vedete che non abbiamo un doppione perché perché il potere di reno è per l'appunto col di ricaricarci tutta la vita se noi abbiamo solo una copia di carta del mazzo una copia di carta nel mazzo stessa persona per casacus che è nuovo e come potete vedere questa qua una leggendaria che vale per più classi in questo caso stregone sacerdote mago perché è la cabala ve lo dico subito è un mazzo non è un mazzo semplice bisogna sapere bisogna avere una notevole dose di culo anche una notevole dose d'esperienza bisogna sapere ad usare le carte ogni carta un effetto particolare bisogna sapere quando e come usarla ok mirror cioè siamo contro un altro mago ok reno mi farebbe comodo ma in teoria vorrei sono quasi tentato di cambiarla tutta ma blocco di ghiaccio è troppo buono vediamo se la fortuna ci assiste sì sì abbastanza ci ha assistito più che a sufficienza vediamo nostro amico naturalmente io non so che tipo di mago abbiamo di fronte potrebbero avere di fronte un tempo c'è un tipo di mazzo che ci continua a lanciare magie di basso costo per riuscire a vincere all'asfelta potremmo avere di contro potremmo avere contro un altro mazzo uguale al nostro identico e come potremmo avere contro un mago che io non conosco perché c'è sempre questa ipotesi allora una cosa che a me non piace tantissimo fare è settare blocco di ghiaccio all'inizio perché è vero che lui potrebbe ottica parmi ma se ha un divoratore di segreti o qualcosa di questo tipo che ci va a rubare il segreto che abbiamo lui il nostro blocco di ghiaccio è andato e a meno che per qualche strano motivo non lo recuperiamo mai più comunque sì io preferirei fare questa massa qua perché perché se lui ha una pala di fuoco la usa su di lui ok vi direte si è un migno sprecato direte voi però è logica è tutto logica però abbiamo un tipo di mago che è abbastanza tranquillo per lo meno per adesso sembra abbastanza tranquillo ecco i doppioni ci possono capitare da per esempio carte come libro cacchierone o anche corriere della cabala se io decidessi scegli una carta del mago in questo caso otteniamo una colonna di fuoco perché è una magia casuale però io ho un'altra colonna di fuoco nel mazzo il potere di reno tuttavia funziona perché le carte non devo avere doppio nel mazzo se è un tipo di mazzo come il mio potrei prevedere e dire che adesso vi lancio una palla di fuoco no ho previsto male ecco proprio quella doveva capitare però potremmo fare anche così il mio problema principale è che lui adesso ha delle carte che costano veramente poco perché ha usato totale speriamo bene la potenza di tala in questo caso direi di sì perché ci togliamo dalle scatole un sacco di problemi perché ha usato la pecora perché tre missing arcani all'avversario in line una partita sei gentile a unirti a me va bene me calato un 7 a 7 anche se direttamente da kazakus contro incantesimo è molto buono sì magari può pensare che è un blocco di ghiaccio potrebbe essere tutto un trucco mentale questo pezzo e se fosse oh oh sì 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 c'è cascato c'è cascato non ci credo c'è cascato e adesso ci divertiamo e adesso direi che siamo nella fase di divertimento vediamo un po' cosa decido di fare tormenta mi congela giocamente e allora in questo caso cosa si fa allora noi tecnicamente siamo costretti a bruciare Alexstrasa oppure distruggere il bate ma in questa occasione io farei così e questa si chiama inculata incredibile oh mio dio finito oh mio dio eh beh ti vuoi parlare il culo con kazakus adesso vero giustamente giustamente mi è costato soltanto l'aria mi è costato soltanto l'aria ma sti cazzi quante carte hai ok ok combo super complicata super complessa ma funziona il friggio donani potrebbe essere buono ma gliene faccio già abbastanza io ho trasformato tutto il tempo e fornirmi 10 armature ok cosa abbiamo appena assistito è il potere di kazakus cioè mi permette di creare una magia che ha un costo di 1,5,10 dopodiché mi fa scegliere degli effetti che hanno potenza uguale tra virgoletta il costo della mia magia se io ho scelto una magia da 10 gli effetti saranno molto potenti ma avrò bisogno di 10 cristalli per poterlo giocare ok non ha divoratore di segreti e questo mi sta molto simpatico penso che abbia capito che abbia perso no lui spera che io non abbia danni in mani in mano cosa che non è così in realtà perchè io ho un friggio quanto danno questo qua e niente sei stato un bravo avversario c'è un nuovo di danno in mano quando mordi va bene e ragazzi bella giocata ok ammetto che abbiamo sculato parecchio in diverse occasioni wow un sacco di oro in più abbiamo sculato parecchio in diverse occasioni non lo metto in dubbio veramente però avete potuto osservare come funziona tra virgolette questo mazzo anche con una fantastica davvero 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 fantastica vittoria in classificata di vittorie così se ne vedono poche se volete vi lascio il mio battletag che è questo qui al gisius hashtag 2317 in questo modo se volete mandarmi una richiesta potete farlo noi ci vediamo in un prossimo video quindi bella ragazzi